Stamattina la notizia di Ischia e del sindaco arrestato, le cooperative sono in tutti gli scandali? Non direi in tutti gli scandali, io ho appena avuto notizia di questa situazione, credo che si debba ribadire una valutazione che facciamo sempre, che le responsabilità che ci sono, che sono valutate dalla magistratura, e se ci sono delle persone che hanno fatto le cose sbagliate, è giusto che paghino e paghino secondo la legge del nostro Paese.